Si stanno creando delle tensioni interettriche tra le persone extracomunitari, che siano in affitto o che siano proprietari, e gli abitanti della città, i mestrini. Il problema si sta rendendo difficilissima la convivenza fra queste persone. Dopo gli ultimi episodi di degrado e tensioni nel condominio Bandiera tra via Cappuccina e Rampa a Cavalcavia a Mestre, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominali e Immobiliari di Venezia esprime la propria preoccupazione. Liti ed episodi di microcriminalità sono ormai all'ordine del giorno. La situazione limite, per esempio, è successa qui, proprio in questo condominio, siamo Rampa a Cavalcavia, in cui sono venuti allo scontro fisico una coppia del primo piano con 10-15 appartenenti all'altra comunità che abitano e sono sopra. Secondo la NACI il controllo da parte delle forze dell'ordine non è sufficiente. I controlli dovrebbero essere fatti in momenti particolari, non alle 10 del mattino, alle 3 del pomeriggio, alle 6 di sera, ma purtroppo dopo l'ora di pranzo o prima delle 6. Di qui un appello al Comune. La scorsa estate infatti c'è stato un incontro con il Vice Sindaco Colle e l'Assessore alla Sicurezza d'Este per siglare un accordo che però è sempre stato rimandato. Questo protocollo dovrebbe prevedere una segnalazione da parte degli amministratori e per quanto riguarda il sovraffollamento, ma anche quello che il sovraffollamento potrebbe nascondere, e cioè anche microcriminalità perché queste persone sono portate ad affittare, dare in subaffitto a chiunque sia disposto a pagare. E quindi anche il piccolo delinquente, lo spacciatore, quindi chiediamo, se senz'altro noi chiediamo al Comune di intervenire. Grazie a tutti.